Come prima cosa sento davvero di ringraziare di cuore tutto lo staff di Venice Days and Week per aver organizzato una manifestazione culturale così importante in un momento così difficile e drammatico non solo per la vita sociale ma anche quella culturale e soprattutto per aver dato a un concorso un tema così interessante, quello di instrumenta design, sul mondo dell'archeologia e appena noi di Dark Studio abbiamo letto il tema del concorso non ci abbiamo pensato più di un secondo a dover partecipare perché in realtà Dark Studio soprattutto con Shape Up Italy negli ultimi due anni si è impegnata proprio nel lavorare sul campo della ricerca unendo appunto tecnologia, modellazione 3D e stampa 3D nel mondo dell'archeologia e dei musei. Il pensiero ci hanno dato subito al Museo Archeologico Nazionale di Taranto perché possiede davvero dei reperti archeologici di grandissimo prestigio e di grandissima bellezza e forse perché deriva da un ricordo di infanzia perché ricordo la mia prima visita credo in una gita delle scuole elementari al Marta in cui ero rimasta davvero colpita per i gioielli di una bellezza davvero incredibile ma di una contemporaneità e quindi già da allora abbiamo iniziato a lavorare su dei progetti che potessero appunto riportare alla luce questi gioielli ma poi pensando anche al tema del concorso di instrumenta design e essendoci ritornata l'estate di due anni fa al Marta proprio perché c'era la nuova esposizione abbiamo deciso di partecipare al concorso di instrumenta design con degli oggetti che sono le statuette degli acrobati sempre conservati appunto al Marta appartenenti al quarto secolo avanti Cristo perché l'idea ci sembrava non solo culturalmente quasi da un punto di vista del dovere ma anche quasi giocosa perché portare un oggetto del quarto secolo sulla nostra tavola o nei nostri appartamenti credo che è qualcosa di interessante da un punto di vista estetico ma anche proprio di affetto. Il nostro progetto si chiama Armonia perché la statuetta dell'acrobata diventa un portauovo quindi con un gioco di equilibri si raggiunge l'armonia quindi l'acrobato più sostiene l'uovo che è da sempre un elemento di equilibrio e anche di delicatezza e abbiamo lavorato partendo da una scultura digitale e unendo altri software come Grasshopper facendolo diventare il nostro portauovo. L'idea e il processo che noi stiamo cercando di creare in questo settore oltre al concorso e quindi oltre a questo oggetto è quello di scansionare tridimensionalmente tutti questi oggetti antichi soprattutto i gioielli o queste piccole statuette o utensili da cucina appartenenti appunto all'antichità e al nostro passato per poter poi avere non solo un archivio digitale reale e quindi fedele a quello che è oggi lo stato di questi oggetti nello stesso tempo la possibilità di stamparli di creare delle mosse per non vedenti e di poterli utilizzare come in questo caso con Armonia quindi con una reinterpretazione artistica e diciamo portarli ad una contemporaneità anche nei bookshop dei vari musei in Italia quindi davvero un grazie speciale a Venice Days and Week allo staff di Instrumenta Design per aver dato un tema così importante così creativo unendo diciamo quella che è il nostro passato con la contemporaneità e utilizzando appunto tutte le varie tecnologie spero che il nostro Armonia possa avere successo che possiamo vederlo diciamo nei bookshop dei vari musei soprattutto più che dei vari musei del Marta di Taranto a cui va un grande saluto è davvero quello che possiede il Marta è eccezionale ancora grazie e ringrazio anche le mie collaboratrici Federica e Cubra tutto lo staff di Dark Studio quindi e di ShapeUp grazie ancora e bocca al lupo con Venice Days and Week